Ciao a tutti sono Spiegheramontato e benvenuti a un nuovo video qui sul mio canale Come vedete siamo su Dead Space Questa è la circa terza puntata, quarta puntata se non sbaglio, quarta puntata Continuiamo dove ce l'avamo fermati l'altra volta Prima di iniziare vi avviso che non potrò parlare ad alta voce perché l'ora non me lo permette Quindi mi dispiace, cercherò di abbassare il volume del gioco in modo tale che mi sentiate Abbastanza bene, o comunque che la mia voce non sia sovrastata da quella del gioco Ma non credo perché l'ho messo molto basso E poi vi avviso che mi è arrivato un oggetto che mi permetterà di creare la nuova serie Diciamo che è una serie collegata ad Arduino Vabbè dai ve lo dico Come avevo detto la serie di Arduino era una serie di transazione Sì, sì, no Insomma, la serie di Arduino che sto organizzando ultimamente Le prime due puntate sono già uscite, la terza deve ancora uscire Sono delle puntate base in cui spiego delle cose, delle regole, diciamo Dei metodi base per utilizzare Arduino Perché? Perché voglio fare qualcosa di più avanzato Voglio insegnarvi a fare domotica Ebbene sì, faremo domotica con Arduino Proprio ieri mi è arrivato il motore tubolare per la serranda Quindi per la tapparella In modo tale che mi permetta di rendere totalmente comandabile dal PC Tutta la camera, quindi luci, prese e anche la tapparella Vabbene, prima di questa puntata dove vi sto dando questo Ora possiamo iniziare Non metto la cam perché... perché l'ora non me lo permette Nel senso che sembro un... un trichecco, un drogato Se... non mi ricordo esattamente dove eravamo arrivati Nel senso che... non mi ricordo dove eravamo arrivati Però qua vedo qualcosa No, questo non lo posso sprecare Questa arma è troppo bella comunque Ma credo di essere costretto Tanto qua ci saranno... Oh, perfetto Bravo ragazzo Ah, qui posso fare qualcosa La risposta è no Qua sì Ma sono queste mosche di merda Energia al plasma Aspettate che ricarico anche l'altra arma Che sennò rimango fregato Leggermente Perfetto Ripriamo l'altra Ok Ora... dobbiamo andare Dobbiamo andare qui Ah, giusto Dobbiamo andare all'infermeria A prendere... Dai, apriti A prendere delle cose per far esplodere qualcosa Sì, la mia spiegazione lo so molto... Oh, fuck Ecco cos'erano le mosche Tutte le armi hanno una modalità di fuoco secondario Tutte le armi... sì, me l'hai già detto se non sbaglio Tutte le armi hanno una modalità di fuoco secondario Va bene Non mi freghi più L'altra volta si sono rialzati alcuni mostri Non di questo tipo però Ok, no, sono morti Modulo di stasi Perché modulo di stasi? Non mi ricordo neanche qual è il tasto Ci sono sbaglio Oh, fuck Ok Apreti sedano Ed eccoci qua, infermeria I'm sexy and I know it Spero che non mi denuncino Eh... Qua cosa c'è? Ah, già ero morto Ora mi ricordo Qua succederà un casino Si riempirà di mostri Quindi muovo il culo Come si suol dire Ecco Ora ricordo Sentiamo di fare il più velocemente possibile Olè Dovevo andare Oh, fuck Oh, fuck Staccati da me Da mezzo la merda Oh, fuck Cambia l'arma Ok Me la sto accamando abbastanza bene Però mi serve Mi servono munizioni Perché non mi danno munizioni Sti bastard Di solito me le danno Ero già Ero già al plasma Ricarica Ricarichiamo per sicurezza Che tanto arriva l'altra gente Per l'altra mano Niente delle munizioni No Forse la devo tenere in mano Perché me ne droppino Diciamo Tu non sei morto Invece sì Oh, grazie Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Forca! Oh, fuck Oddio Un po' surlare Cioè voi vi immaginate Mi fa paura questo Figuratevi un vero gioco horror Della madocina Cosa mi fa a me E' bloccato porcaccia Allora fammi vedere un pochino Oh fuck c'è gente lassù Sinceramente non so dove devo andare Sono molto sexy Questi agg Oh fuck Merda ho finito quasi le munizioni La mia mira Oh perfetto Quarentena annullata Eppure è un mad pack Mad pack si chiamaci Ok perfetto possiamo entrare Apri questa merda Se potessi richiuderla Ok armadietti Portano sempre bene Energia al plasma Ricarichiamo quest'arma Ok Qui Munizioni multiraggio D'accordo Munizioni multiraggio Aspettate che Apro l'altra arma Ricarichiamo anche questa Che è la più bella tra l'altro Bellissima quest'arma Dove devo andare Ok salvo la partita Per fortuna metto il salvataggio Ogni tanto In giro per la mappa Così a cazzo Anche se in realtà Si salva automaticamente Da quanto ho capito Andiamo giù Oh fuck Quanto ho salvato Terapia intensiva Ok salva qui Di solito sovrascrivevo Però stavolta no Ho deciso di Fare un salvataggio Per ogni salvataggio Lol Ok usciamo da questa merda No stiamo attenti Perché sicuramente Ci sarà qualcun altro In giro Non mi ispirano per niente Questi Questi posti Anzi è anche abbastanza illuminato Dai almeno Scusate si inghiozzo Oh fuck Oh fuck Ti salvo Attendere è ovvio Dovevo ucciderlo Che cazzo succede Ma che cazzo è Quella roba Dove prepararmi Oh che cazzo Sono queste robe Fati Oh fuck Oh fuck Che merda era Questa roba What La sua testa è così 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 assente Ok andiamo Eh Innanzitutto Prendiamo un'altra arma Prendiamo questa roba Prendiamo un'altra arma Ok Cosa abbiamo qui Energia al plasma Tutta per l'altra arma Che palle Ricarichiamo E ci prendiamo L'altra Stiamo pronti Perché abbiamo Tre munizioni Ok devo andare qui Per forza E devo salire su Sì ma io ho paura Oh ma che cazzo sono Oh ma che cazzo sono ste cose Ma che cazzo sono Solo queste merde ci mancavano Oh fuck Oh fuck Almeno a quanto pare Si ammazzano con un calcio Prendi l'altra Prendi l'altra Prontissima arma Che ho finito Ecco dammi i crediti E dammi anche L'ho vista Energia al plasma Eh non ho un medkit Per caso No Bella risposta Eh no Io ho leggermente paura Sinceramente Eh sì Ok questa roba Nucleare cos'è Andiamo avanti Oh merda Ok Andiamo avanti Allora qua per terra Cosa abbiamo Un sieno di multiraggio Dopisensi Vabbè Eh sì Più che altro Non so dove la veda La termite Io non la vedo Sinceramente Forse l'ho già presa Si il timer mi dice Che è finito il tempo Ma aggiungo Aggiungo qualche secondo Allora Pack di stasi Pack di stasi Energia al plasma Unisione di multiraggio Schema lancia fiamme Io termite Non ne vedo Quindi probabilmente O la devo prendere Ed è qui Oppure la devo prendere Ed è nella prossima stanza Probabilmente si Eh diciamo che Un po' paura Lo ricarichiamo Da dove cazzarà lei La termite Me lo spiegate Allora Fatemi fare un giro Scusatemi Ok Oh cazzo Corriamo Cazzo di baratto Di merda Vaffanculo Vaffanculo Andiamo avanti Io qua termite Non ne vedo Sinceramente Sta tornando indietro In pratica Ok Calmi Porca vacca Mi ha fatto cagare Addosso Spara Questa merda Oh santo dio Credo che chiuderò La puntata qui Oh si Prendiamo un'altra arma Carichiamo l'arma E vi saluto qui Perché io sono Spiegarantato Se il video vi è piaciuto Ammettete mi piace Iscrivetevi Condividete Mi trovate sempre su Twitter Google Plus O sul mio sito Spiegarantato.ml Che a questo punto Non so ancora Se sarà online Perché Ho avuto dei piccoli Non problemi Ma diciamo Non sono ancora deciso Su alcune cose Ecco Ehm Quindi niente Ci vediamo nel prossimo video Io sono Spiegarantato Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti